Servono nuovi spazi per il centro per l'impiego di Chiavari, l'appello della CISL del Tiguglio, risponde il sindaco, gli uffici potrebbero essere collocati nel palazzo del nuovo tribunale. 1.500 euro raccolti dai Lions grazie alla partita del sorriso andata in scena al Daneri di Caperana, ricavato consentirà l'acquisto di due defibrillatori. Il carnevale d'agosto ha colorato il lungomare di Chiavari, di fantasia, grande partecipazione di pubblico e di carri allegorici per la manifestazione ferragostana. Riapre il porto Carlo Riva, fino al 30 settembre si potranno utilizzare il molo Langano e il puntile 1 e in caso di cattive condizioni meteo le imbarcazioni saranno ospitate nei porti vicini. A Cogorno è andato in scena il 37esimo addio Dufantine, tra falchi, danze medievali, mangiafuoco e giochi d'arme ed impegno di tanti volontari e appassionati. Manca il personale perché in ferie Trenitalia sopprime 23 treni, nessuna sanzione potrà ripagare il danno di immagine inferto, il commento dell'assessore regionale Berrino. Nei giorni del pienone di turisti, soddisfazione per la riapertura a doppio senso della Provinciale 227 per Portofino. Il semaforo tornerà a fine agosto per permettere la conclusione dei lavori alla passerella. I colori dei sestieri, il suono dei tamburi, il sapore del dolce lavagna ha ospitato la settantesima edizione della Torta dei Fieschi nel rispetto della tradizione e con il ricordo delle vittime del crollo di Ponte Morandi. Indirittura ad arrivo i lavori di riqualificazione alla palestra di Levi, bonificati tetto e sottotetto, coibentata la struttura rifatta alla pavimentazione, spesa complessiva a quasi 150 mila euro. A distanza di un anno dal tragico crollo del Ponte Morandi, Genova si è fermata a pregare per le vittime. Il Cardinal Bagnasco è invitato a rimanere uniti e protesi al futuro. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il Tg, guardando la settimana la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tguglio negli ultimi sette giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, è emerso un tema, quello del centro per l'impiego di Chiavari. Mancano gli spazi, alcuni sono addirittura in scadenza. L'appello a affrontare la problematica è arrivato dalla CISL del Tguglio. Sentiamo. Appello per il centro per l'impiego di Chiavari. La CISL del Tguglio solleva il caso a pochi giorni dallo sfratto imposto per il primo di settembre per uno dei tre locali dove hanno sede attualmente gli uffici. Per i locali di Corso Millo già inadeguati, nessuno ha pagato l'affitto e così dal primo di settembre scatta lo sfratto, lo spazio in questione di proprietà di un privato. Già gli spazi, il sindacato ha sollevato il problema della inadeguatezza degli spazi già da diversi anni. Adesso abbiamo saputo che una parte degli spazi dedicati al centro per l'impiego di Chiavari non sono più agibili perché c'è lo sfratto, in quanto non è stato più pagato l'affitto da tre mesi e quindi hanno ricevuto lo sfratto e questo ulteriormente complica la situazione. Il problema si amplificherà proprio da settembre quando i 25 impiegati che attualmente lavorano nei locali del centro per l'impiego si aggiungeranno i cinque navigator che sono stati assegnati a Chiavari per accompagnare le circa mille persone del Tiguglio e del Golfo Paradiso che risultano assegnatari del reddito di cittadinanza e questo è solo uno dei servizi che fanno capo al centro per l'impiego che partiranno in autunno. Innanzitutto, prima di tutto, le mille persone che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza che verranno chiamate al centro per l'impiego a firmare il patto per il lavoro. Poi ci sono le migliaia di persone che lavorano stagionalmente qua sul nostro territorio, gli stagionali che è finito il periodo per ottenere la NASPI devono iscriversi al centro per l'impiego. E poi ci sono altre iniziative che dovrebbero partire per quello che riguarda i disoccupati sempre in carico ai centri per l'impiego. Perché si è venuto a creare questo stato di cose? Perché nel passaggio di competenze da città metropolitana, ex provincia di Genova ad Alfa, agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento, il contratto non è mai stato volturato. La competenza è poi passata direttamente alla Regione ma con l'intervento di una norma di legge che di fatto esclude da tale competenza il reperimento ed il mantenimento dei locali che, stante una vecchia norma, aspetterebbe ai comuni. Il Comune di Chiavari è già stato informato della questione e si sta attivando. Sono necessari assolutamente degli spazi adeguati per dare un servizio adeguato ai disoccupati del territorio. Per questo noi chiediamo all'amministrazione locale, in primis ai sindaci, di vedere se si riescono a trovare dei locali adeguati da Moneglia-Recco per dare una risposta efficace ed efficiente. Il Comune di Chiavari ha chiesto lo svincolo del quarto piano del nuovo tribunale per poter ospitare gli uffici del centro per l'impiego che sono in situazione di sofferenza. È la risposta che arriva oggi alla sollecitazione della CISL circa gli uffici di Corso Millo. Gli spazi, già esigui, si ridurranno ulteriormente a partire dal primo di settembre quando scatterebbe lo sfratto per uno dei tre locali occupati dal centro per l'impiego a fronte del mancato versamento dell'affitto dopo il passaggio di competenze dalla città metropolitana ex provincia di Genova alla Regione tramite l'Agenzia per il Lavoro, la formazione e l'accreditamento a cui non è mai stato volturato il contratto d'affitto. Abbiamo avuto un incontro a fine dell'anno 2018 con una funzionaria di Alfa che è la società a cui sono passate le competenze sul centro per l'impiego dalla città metropolitana alla Regione e una funzionaria del centro per l'impiego di Chiavari. È arrivata questa lettera anche da una lettera dell'assessore regionale Berrino in cui dice che quando c'è stato questo passaggio da provincia metropolitana a Regione i comuni devono dare i locali oppure subentrare nei canoni di locazione. Alla luce di questo ci siamo attivati mandando una lettera che è stata firmata nei giorni scorsi alla Commissione permanente presso la Corte d'Appello di Genova alla quale può svincolare il vincolo di uffici giudiziari nell'ex Palazzo di Giustizia di Corso de Michel via Trieste. Questa riunione ci sarà il 5 settembre auspichiamo che questa Commissione venga incontro alle richieste del Comune di Chiavari. Va anche detto che qualche remora questa Commissione ce l'ha a concedere questi locali in quanto vi è sempre in piedi una riforma della giustizia che dovrebbe dare al giudice di pace e competenza di cause fino a un controvalore di 50.000 euro il che significa il 70% delle cause che si fanno qua nella giustizia italiana. Auspichiamo comunque per il fatto che abbiamo costituito un condominio e quindi oggi ci sono delle spese da pagare per dei locali vuoti a carico del Ministero di Grazia e Giustizia che sia questo svincolo e si venga incontro alle esigenze del Comune di Chiavari e del Centro per l'Impiego. La sistemazione sarebbe ottimale vista la vicinanza con l'Inps. Ricordo a tutti che il 4 di ottobre avremo a Chiavari la visita del Presidente nazionale dell'Inps che verrà a visitare i locali dell'Inps. Auspichiamo per una corretta anche servizio ai cittadini che ci sia questo svincolo alla luce del fatto che con il reddito di cittadinanza Centro per l'Impiego e Inps hanno rapporti ancora più stretti. Siamo così alla giornata di martedì parleremo dell'iniziativa del Lions del Tiguglio una partita, la partita del Sorriso che ha raccolto fondi per l'acquisto di due defibrillatori la sfida è andata in cena alla Daneri di Caperana e poi a Chiavari, sempre a Chiavari sul lungomare il Carnevale d'agosto ha animato la serata ferragostana vediamo come è andata. È finita 1-0 per la rappresentativa dei Carabinieri la partita del Sorriso giocata al campo Daneri di Caperana di fronte ai militari della compagnia di Chiavari e del circondario e i campioni del cuore squadra formata da politici, sacerdoti, giovani e altri personaggi più o meno noti del Tiguglio l'iniziativa è stata promossa per acquistare un defibrillatore da donare al quartiere di Caperana. Una città come Piacenza che ha adottato questa politica ce n'è uno ogni 300 metri e sono calate le morte di infarto del 40% quindi sicuramente oggi è una cosa utilissima. Le formazioni in campo, fiaccate dal caldo hanno dato comunque vita ad un incontro acceso e divertente sbloccato a metà del primo tempo da una rete del maresciallo Alessandro Latino buona la cornice di pubblico sugli spalti che ha sostenuto i giocatori. È un'occasione per allenarsi e fare un po' di amalgama di squadra perché giocando ad 11 specialmente è parecchio faticoso, il campo è più grande quindi è un'occasione in più che abbiamo per poterci allenare. Abbiamo avuto don Andrea Buffoli io, don Bonaventure e don Florence dunque una bella rappresentanza rappresentanza della diocesi però a livello internazionale. Massimo fair play ma soprattutto una bella sera anche se hai visto anche qualche bella azione da una parte e dall'altra quindi questo non guasta. Abbiamo faticato tantissimo e forse ci ha aiutato qualche anno di meno però è stata una bellissima partita onorati di aver partecipato a questa grande iniziativa e a far parte di questa partita. La serata è proseguita poi con la cena sul piazzale davanti al campo preparata dal comitato Amici di Caperana un'iniziativa di unione, solidarietà e divertimento promossa da ben 5 Lions del territorio. Oltre a noi che siamo Chiavari Ost c'è Chiavari Castello c'è Altavara, Valdaveto, Valle Sturla poi c'è Santa Croce e poi Lavagna, Valfontana Buona con Tia dei Fieschi. Delle manifestazioni estive è di certo quella più colorata e festosa. Il carnevale d'agosto ha letteralmente riversato sul lungomare di Chiavari un fiume di persone, mascherate e non che non si sono fatte intimorire dalle visaglie di maltempo cedendo alla tentazione per una sera di dare sfogo alla fantasia. Al termine di un lungo pomeriggio di preparativi con le ultime luci del giorno che ancora sfocavano sul mare sono iniziate le prime danze. Bambini e adulti tutti coinvolti in un percorso divertente soprattutto nell'intento di scoprire chi si celasse sotto mentite spoglie il momento clou della serata arrivati insieme ai cari adobati con dovizia di particolari ciascuno con un tema diverso da quelli più tipicamente hawaiiani a quelli legati ai film d'azione e cartoni animati ma anche semplici richiami a canzone degli anni 70 senza tralasciare anche le piccole frustrazioni domestiche. Quest'idea ci è venuta al mare soprattutto a queste due signore qua che sono delle esperte di casalinghe disperate e quindi hanno cercato di coinvolgere anche i mariti però di fatto io sono l'unico che ha preso delle botte da questa signora qua perché dice che mi piace la birra e mi ha ridotto un po' così però le casalinghe disperate a noi ci piacciono perché le vogliamo bene a tutte quante. E' un'idea che ci è venuta io una settimana quattro giorni abbiamo fatto il calo l'idea è mia però ho gli amici che mi hanno aiutato tutti e sono stati bravissimi ma adesso siamo qua a divertirci solo per divertirci perciò saluto tutti e speriamo la prossima anno. Può riaprire almeno temporaneamente fino al 30 di settembre il porto Carlo Riva a Rapallo è stata raggiunta l'intesa tra Comune e la Capitaneria di Porto sono state rispettate alcune prescrizioni una su tutte in caso di condizioni meteo avverse le imbarcazioni potranno essere ospitate negli approdi vicini di Chiavari, Lavagna e Santa Margherita Ligure vediamo nel dettaglio Il porto Carlo Riva di Rapallo può riaprire il Comune ha revocato l'ordinanza di chiusura dello scorso 25 luglio che di fatto prendeva atto della mancanza delle condizioni necessarie di sicurezza per imbarcazioni e di portisti la revoca è stata resa possibile dall'ordinanza firmata dal Comandante Antonello Piras con cui la Capitaneria di Porto autorizza in via provvisoria l'utilizzo del mollo Langano e del pontile numero 1 imponendo una serie di prescrizioni chi entra in porto dovrà essere dettagliatamente informato delle attuali condizioni le imbarcazioni saranno armeggiate secondo un piano preciso ed elencate in un documento che dovrà comprendere i recapiti telefonici di ogni comandante il porto sarà comunque interdetto in determinate condizioni meteomarine viene rilasciata la possibilità ovviamente al comandante dell'unità di valutare se permanere in porto oppure no la direzione del porto quindi il concessionario avrà cura di comunicare queste informazioni a tutti quanti gli utenti all'atto dell'arrivo in porto quindi ai vari comandanti dell'unità però ovviamente il codice della navigazione riconosce una responsabilità diretta anche del comandante dell'unità il quale potrebbe valutare comunque pericoloso lasciare il porto più pericoloso lasciare il porto rispetto alla sua permanenza all'ormeggio l'utilizzo del porto in particolare è subordinato alla messa in opera del sistema antincendio provvisorio è stato implementato sotto il profilo appunto delle dotazioni antincendio ma anche sotto il profilo del servizio di guardianina quindi inteso come dotazioni come persone che fisicamente svolgono questo servizio per questo motivo il porto Carlo Riva ha sostituito un accordo con i vicini del fuoco che provvederanno ad integrare l'organico insomma dei dipendenti del Carlo Riva per garantire un pronto intervento in caso di un principio di incendio resta interdetto l'utilizzo della diga foranea costituita dal molo sud e molo oeste del pontile 2 e 3 il porto chiuderà nuovamente dopo il 30 settembre la determinante è capire quali erano le capacità di resistenza della diga stessa al moto ondoso in maniera tale la poter appunto individuare questi limiti e nell'ambito di questa valutazione oltre a tener conto ovviamente dell'altezza significativa delle onde si è tenuto conto anche del periodo temporale in cui c'è la maggiore probabilità che si verifichino determinati eventi apriamo adesso una breve parentesi dedicata alle feste del Tiguglio le feste ferragostano per eccellenza ovvero la torta dei fieschi preceduta la sera precedente della Dio Dufantin a Cogorno due manifestazioni che hanno richiamato tanto pubblico e per quanto riguarda la torta dei fieschi il tutto è stato preceduto da un momento di ricordo in memoria delle vittime del ponte Morandi tema questo che affronteremo poi anche nel nostro approfondimento vediamo intanto i due servizi della Dio Dufantin a Cogorno e la festa della torta dei fieschi a Lavagna una serata immersi nell'atmosfera medievale al borgo dei fieschi con la Dio Dufantin che da 37 anni precede di 24 ore la rievocazione storica delle nozze fra il conte Opizzo Fieschi e la nobile donna Bianca De Bianchi al borgo dei fieschi di San Salvatore di Cogorno l'addio al celibato del conte comprende il banchetto le esibizioni del gruppo musici e sbandieratori dei sestieri di Lavagna le esibizioni della compagna d'armi Flos II e la Torum e le grazie d'amore con i suoi venti figuranti accompagnati da tante bambine purtroppo non ci sono delle vere coreografie scritte di danze medievali ci sono stati dei maestri che nei primi anni del novecento hanno cominciato a scoprire questo tipo di danza questo tipo di cose e attraverso le miniature si sono ricreate queste coreografie in base a una metrica di passi a una metrica di musica ed è una cosa molto molto interessante quanto allenamento ci vuole per fare questi combattimenti in maniera che siano il più realistico possibile diciamo che di base ci vogliono degli anni ad acquisire la capacità e diciamo l'abilità del maneggio poi una volta che uno è arrivato a un certo livello il combattimento in sé si può anche preparare abbastanza rapidamente ogni anno si alternano gruppi ospiti sono tornati anche per l'edizione 2019 di Gianna Tampe con i loro spettacoli con il fuoco e hanno incantato il pubblico i falconieri dell'associazione Il Mondo nelle ali la falconeria fa parte della nostra umanità nasce 4.000 anni fa quando l'uomo impiegò questi animali per motivi venatori e da allora ad oggi è un'arte che peraltro è stata riconosciuta nel 2010 dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità quindi stiamo parlando veramente di uno scorcio della nostra storia che ad oggi è diventata una passione per tante persone che desiderano avvicinarsi a questo straordinario mondo è partita dall'aver conosciuto due maestri di arti marziali indiane che i quali poi li abbiamo seguiti appunto in India per studiare quest'arte col fuoco e da lì c'è nata un po' la passione che poi abbiamo sviluppato negli anni quindi tutto è nato da dei maestri di arte marziale indiana che è l'arte che noi portiamo nei nostri spettacoli come si fa il mangiafuoco? cioè il trucco del mangiafuoco è? è un trucco è un trucco è proprio un trucco non si può rivelare ci sono delle tecniche da seguire delle regole rigide rigidissime da seguire per non farsi male degli studi comunque anche tanta tanta pratica la torta dei fieschi ha riempito le strade di Lavagna l'edizione numero 70 dopo lo stop imposto lo scorso anno nel giorno della tragedia del crollo del ponte Morandi è tornata secondo la più genuina tradizione sebbene con il gonfalone dei sestieri listato a lutto ad aprire il corteo e i sestieri sono riusciti a regalare alla città la festa più attesa nonostante le difficoltà imposte dal dissesto economico del comune ci siamo impegnati tantissimo cercando di capitolo per capitolo di risparmiare il più possibile però cercando di fare il meglio sono salita sul palco diverse volte mi sembra che la piazza sia molto gremita e mi hanno detto che c'è molta molta affluenza tra l'altro tantissimi giovani la grande novità senz'altro è intanto una fortissima collaborazione che abbiamo continuato con i sestieri perché costituiscono veramente una realtà fondamentale per quanto riguarda il nostro territorio Lavagna deve ripartire da questo cioè dalle sue tradizioni e poche associazioni rispecchiano esattamente questa peculiarità per il territorio di Lavagna il gruppo storico dei sestieri di Lavagna conta attualmente circa 200 figuranti il ricambio generazionale garantito da una sempre foltissima presenza di giovani e di tanti bambini coinvolti nella sfilata ma anche nel gruppo dei musici e degli sbandieratori sempre attivo ed entusiasta ma ci sono ovviamente anche le figure storiche come quella dell'Araldo Messer Bulgaro da Masserano era praticamente un nobile che diciamo un nobile banditore che andava ad annunciare le nozze del cugino Pizzo Fiesco che praticamente si è unito in matrimonio con la nobile senese Mona Bianca dei Bianchi in piazza il tradizionale gioco delle coppie con la ricerca del nome uguale su talloncino di colore diverso che dà diritto ad una doppia porzione di torta distribuita da tanti volontari Avete già trovato la compagna voi? Subito appena preso il biglietto ho fatto 10 metri una ragazza è venuta verso di me e mi ha preso ci siamo trovati ci siamo trovati e abbiamo mangiato questa torta buonissima quindi azione del destino buona e vabbè io sono lavagnese quindi ho sempre mangiato la torta di lavagna quest'anno abbiamo una torta genovese devo dire che non è male sono stati bravi l'hanno fatta quasi uguale alla nostra sta andando molto bene un sacco di gente la nostra prima esperienza qua dietro le quinte è molto divertente molto bello I temi della viabilità dei trasporti nella giornata di venerdì è fatto discutere è fatto anche scalpore la notizia della cancellazione da parte di Trenitalia di 23 treni sulla tratta regionale per mancanza di personale perché in ferie è un danno di immagine notevole questo il commento dell'assessore ai trasporti della regione Liguria Berlino e poi parleremo della riapertura doppio senso di marcia della provinciale 227 per Portofino una riapertura anche parziale considerato l'alto afflusso di turisti proprio in questo periodo a fine agosto ritornerà a semaforo per concludere per mettere la conclusione dei lavori alla passerella vediamo i servizi ha suscitato stupore ma ha anche provocato molti disagi questa mattina la soppressione di diversi treni regionali in Liguria prima delle 8 nel pieno ponte estivo di Ferragosto risultavano tre treni soppressi fra quelli che collegano il Levante Ligure con Genova in direzione del capoluogo Ligure in totale sulle tratte che attraversano la regione ci sono state oltre 10 soppressioni di convogli e oltre alle cancellazioni nel corso della mattinata si sono verificati numerosi ritardi sia per quanto riguarda i treni diretti a Genova sia per i convogli diretti verso Sestilevante e La Spezia Trane Italia dal canto suo ha precisato che le cancellazioni dei treni sono state dovute a motivi tecnici non previste legate in sostanza all'indisponibilità del personale di bordo l'azienda ha provveduto a garantire la mobilità con bus sostitutivi o con l'aggiunta di fermate nei treni successivi a quelli cancellati provvedimento questo che però ha provocato numerosi e consistenti ritardi sulla vicenda è intervenuto l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino quanto accaduto quest'oggi è molto grave ma non c'è stata nessuna visaglia è la prima volta che capita un fatto del genere in questi ultimi anni Trenitalia ha continuato Berrino deve erogare il suo servizio nel modo migliore secondo le previsioni del contratto stipulato deve assumersi tutte le responsabilità nei confronti di un fatto grave accaduto e noi applicheremo tutte le sanzioni previste e pretendiamo che l'azienda cambi la sua organizzazione interna per evitare il ripetersi di queste situazioni è assolutamente ingiustificabile la soppressione di oltre 10 treni regionali ha concluso l'assessore ancora di più se si considera che siamo nel pieno del ponte di Ferragosto con la Liguria visitata da migliaia di turisti e comunque in un giorno anche lavorativo nessuna sanzione che comineremo a Trenitalia ha concluso l'assessore potrà ripagare il danno di immagine inferto questo lavorare insieme del comune di Santa Vita Liguria il comune di Portofino città metropolitana regione Liguria e Ministero davvero fa vedere come quando c'è la volontà e quando c'è anche la capacità di stare insieme che non è mai una cosa semplice si possono ottenere risultati significativi in tempi ragionevamente brevi quindi penso sia un momento di soddisfazione per tutti c'è soddisfazione nelle parole del sindaco di Santa Margherita Ligure per il traguardo raggiunto proprio alla vigilia del giorno di ferragosto a poco più di quattro mesi dalla riapertura a senso unico alternato dello scorso 6 aprile la strada provinciale 227 è ritornata a doppio senso di marcia almeno per un periodo i lavori in queste settimane sono infatti continuati a tempi di record e si sono quasi ultimati ma visto il periodo festivo in cui sono attesi nel borgo un numero eccezionale di turisti si è deciso di riaprire comunque a doppio senso di marcia almeno fino ai primi giorni di settembre quando verrà nuovamente installato un semaforo per consentire gli ultimi lavori di rifinitura della passerella pedonale adiacente ci saranno ancora alcuni particolari da mettere a posto ma lo faremo dopo le festività di metà agosto è una bella soddisfazione perché nel contempo verrà riattivata anche la passerella pedonale è davvero un territorio che sta completando l'iter per arrivare a restituire una piena accoglienza anche con la funzionalità dei servizi quindi davvero una bella soddisfazione che condividiamo tutti insieme a quasi un anno di distanza dalla tremenda mareggiata di fine ottobre per il territorio del Tiguglio Occidentale questi sono stati mesi per cercare di ritornare alla normalità una prova difficile quella affrontata e che ora deve dare lo slancio per guardare al prossimo futuro ora ci vuole un po' di pace per poter anche invece di pensare al ripristino per poter portare avanti quei progetti di unione tra Portofino Sant'Avita e Rapallo che abbiamo nel cassetto che abbiamo dovuto tenere un attimo chiusi ecco perché c'è grande voglia da parte delle amministrazioni di collaborare di dare ancora maggiore sprint a questo territorio che penso che sia uno dei più bei territori e unico al mondo ecco Restiamo ai temi della politica amministrativa andiamo a Levi dove sono in addirittura d'arrivo i lavori di riqualificazione della palestra comunale scopriamo che cosa è stato fatto Le aziende hanno ripreso a lavorare alla cremente in questo momento stanno terminando l'operazione di installazione degli infissi dopodiché verrà praticamente smantellato tutta la parte della ponteggiatura e andremo a posizionare la caldaia la nuova caldaia per il riscaldamento E' stato completato un profondo lavoro di bonifica delle strutture del tetto e del sottotetto Sì in primo luogo è stata realizzata la superficie il calpestio cioè tutto il pavimento è stato rifatto completamente con una tecnica molto all'avanguardia dopodiché sapevamo che il tetto era purtroppo di un materiale oramai in disuso e non consono ci siamo resi conto in corso d'opera che anche il sottotetto era di questo materiale quindi abbiamo provveduto con la supervisione dell'ingegnere Parpaglione che ha abilmente coordinato tutte le procedure in collaborazione con l'ASA abbiamo provveduto a smaltire definiti a togliere smaltire tutto il materiale e a sostituire con materiale idoneo questo anche per avere una certificazione all'altezza per poter garantire tutte le realtà che andranno a fruire di questo impianto sportivo Obiettivo riaprire per il periodo scolastico una struttura che viene utilizzata dalle scuole del territorio Sì certo ma non solo direi che in questi anni è stata utilizzata per tornei di pallavolo di calcetto e questo lo vogliamo portare avanti ancora con più diciamo con più corposità in futuro proprio perché l'impianto adesso ha delle caratteristiche di assoluto valore e ovviamente ha avuto in questo periodo in questi anni anche un'importanza come diceva lei per la scuola viene come dire utilizzata per l'educazione fisica svolta dei ragazzi della scuola primaria di Leivi e quindi se non sarà proprio per l'inizio della scuola che è fissato circa per metà settembre sarà comunque pochi giorni dopo averà questa inaugurazione Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG guardando la settimana come annunciato il nostro approfondimento dedicato alla commemorazione delle vittime del crollo del Ponte Morandi ad un anno di distanza la cerimonia si è svolta il 14 di agosto a Genova la presenza anche dei familiari delle vittime ripercorriamo le diverse voci e i momenti in cui si è fatto memoria appunto di questa tragedia il TG Guardando della settimana si conclude al termine dei prossimi servizi e l'appuntamento torna fra 7 giorni grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata giorgio donaggio un anno dopo il crollo del Ponte Morandi Genova si è riunita nella preghiera accanto alla pila 9 in fase di costruzione per ricordare le 43 vittime di quel tragico evento una giornata soleggiata accompagnato il momento semplice composto in prima fila i familiari delle persone che persero la vita il 14 agosto del 2018 definiti dal cardinale Angelo Bagnasco che ha presieduto la liturgia Angeli della Città Genova non li dimenticherà mai abbiamo incisi nel cuore quei giorni quell'apocalisse che ci ha lasciati senza respiro che ci ha fatti sentire svuotati come se tutto di improvviso fosse precipitato nel buio ma al buio delle tenebre Genova ha saputo anteporre la luce della speranza quella portata dai soccorritori che sin da subito senza risparmio si sono prodigati per salvare delle vite umane una luce che man mano si è ingrandita che si è fatta largo tra le macerie alla ricerca di vita è la luce dei soccorritori sbucati da ogni dove come se fossero miracolosamente pronti per essere presenti e operativi è stato solo dovere no è stato anche amore essi hanno espresso l'anima di Genova ha proseguito il cardinal Bagnasco che ha poi ricordato i disagi degli abitanti della zona dei lavoratori che avevano le loro attività tutti hanno vissuto un distacco familiare caro che ha messo in crisi il loro lavoro ma su tutto ha alleggiato la speranza di credere in un futuro non lontano che oggi cominciamo a vedere in ultimo una consapevolezza se restiamo uniti e ci lasciamo umilmente abbracciare da Dio cari amici allora allora saremo capaci di abbracciarci gli uni gli altri con sincerità di cuore e le nostre capacità come i pochi pani e i pochi pesci della parabola evangelica si moltiplicheranno e faranno miracoli è così assurda la loro morte che non possiamo rassegnarci né accettarla nel suo discorso Egle Possetti presidente del comitato familiari delle vittime del Morandi chiede giustizia e assicura grande determinazione nella ricerca della verità perché dice quanto accaduto è inaccettabile noi continueremo a lottare con l'umiltà di semplici cittadini ma con la determinazione di chissà che questo dolore così grande nel nostro cuore non possa scivolirsi se non sarà direzionato verso un orizzonte positivo cercando di restituire un po' dell'affetto che abbiamo ricevuto e cercando con determinazione la verità e il cambiamento perché noi queste 43 vittime non le dimenticheremo mai chiediamo chiediamo ai rappresentanti delle istituzioni ha proseguito Egle Possetti un segnale concreto affinché i cittadini possano sentirsi tutelati affinché l'affidamento dei beni pubblici venga garantito con la massima attenzione e che la vigilanza sia potenziata i beni demaniali sono costruiti col sudore dei cittadini onesti e non possiamo permetterci che siano loro stessi la causa della morte di persone innocenti Non si ferma qui la presidente del comitato che quel tragico giorno di un anno fa perse la sorella e i nipoti chiede che d'ora in poi la parola d'ordine sia prevenzione Noi chiediamo con forza la modifica di norme di legge affinché i processi siano brevi perché le famiglie possano trovare pace chiediamo che nessun reato di tale gravità possa essere prescritto Siamo sopravvissuti un anno continua la Possetti vorremmo provare a vivere nuovamente ma è come una montagna infinita da scalare Come nazione non possiamo buttare a mare la nostra forza dobbiamo solo avere il coraggio e l'onestà di ritrovarla Grazie La presenza dello Stato testimonia la partecipazione di una nazione intera sono le parole del premier Giuseppe Conte che guarda in faccia i parenti delle vittime e aggiunge non vi abbiamo dimenticati Conte ricorda poi di aver indossato la cravatta con il simbolo del ponte di recente a Lausanne e segno ha spiegato della tragedia ma anche della fierezza con cui il paese sa adoperarsi per rinascere di qui l'accenno ai lavori che proseguono A giugno c'è stata raggettata di cemento per il primo pilastro il cantiere è attivo sette giorni su sette ringrazio avvero tutti coloro che stanno lavorando per l'incessante impegno che profondano in quest'opera di ricostruzione Nelle immagini della Valpolcevera un anno dopo il crollo del Morandi oggi si vedono le gru della ricostruzione e segno ha detto il sindaco di Genova che quando si lavora insieme e si lasciano da parte gli interessi si possono ottenere risultati importanti La pila 9 è già a quasi 20 metri le altre fondamenta abbiamo 11 pile già con fondamenta quindi dobbiamo andare in questa direzione i lavori sono sul piano sono sul piano io sono convinto e confidente che a fine aprile noi inaugureremo il ponte Sollecitato dai giornalisti Bucci ha detto di non temere un eventuale rallentamento dei lavori a causa della crisi di governo Come ho detto l'altro giorno ho avuto l'assicurazione dal governo che il supporto sarà continuo non c'è motivo per cui dobbiamo fare la guerra io mi aspetto un supporto da tutti Per il presidente della regione Giovanni Totti infine quello di oggi è stato il giorno del dolore e dell'orgoglio È stato un esempio di collaborazione tra istituzioni cittadini parti sociali e quindi credo che oggi sia una giornata di grande dolore perché ricordare per chiunque c'era un anno fa esattamente a quest'ora in questa città è un ricordo che non scomparirà mai ma è anche un momento di grande orgoglio perché oggi ricordiamo un anno di lavoro che non è finito ma che ha fatto tanto per questa città che non è finito che non è finito Grazie a tutti